sono giornali che creano dei miti questi non ci stanno neanche più pensando ragazzi il governo non ci sta pensando e tra un po' non ci pensano nemmeno lo stesso partito gli stessi partiti opposizione va là non ci pensano neanche più manco loro tra un po' state a vedere avanti state a vedere allora lo sappiamo bene che lei è lì perché comunque è stata una è stato molto bravo il padre soprattutto no a promuoverla in tutta europa liberatela guarda che situazione in carcia guarda come viene trattata non ha fatto niente ma adesso ero deputata c'è stato un po' la gente è molto incazzata per questo cioè soprattutto quelli che coloro che dovevano andare in realtà chi doveva pigliare il suo posto da eurodeputato o eurodeputata maschio femmina che sia non importa però per un sogno nel cassetto quello di andare all'europarlamento con dei meriti lei che meriti c'ha a parte di essere comunista cioè scusatemi ah non è per offendi comunisti per carità non è non era quello il mio intento per carità stai calma volevo dire quel merito c'ha oltre alla fedeltà politica come la chiamo io di essere comunista niente niente ah beh se a voi niente in attizia per i cento me iscritti attivate la campanella grazie di cuore per ogni aggiornamento e per il vostro affetto campanella per tutte le notifiche toc toc entrato nelle vostre case i vostri bagni vostre cucine bene perfetto ora i vostri letti ora attiva della campanella perché la le salis dice libero quotidiano tra un po ci manca un mandato d'arresto perché irreperibile alle chiamate che deve pagare 90 mila euro all'aler per quella casa occupata ancora sezione della casa occupata l'hanno messo ancora in prima pagina allora libero quotidiano giornale di destra per favore non mitimizzate più questa persona non create più un mito che non è è una persona che era in carcere ed è eurodeputata in questo preciso istante che si cucca 200 quasi mila euro non totali perché comunque la prima volta ero deputata però i suoi credo 15 18 mila ce li abbia ce li abbia come adesso provocano che deve essere arrestata di un mandato d'arresto perché irreperibile alle chiamate che deve pagare 90 mila non risponde mai una volta al telefono e che bisogna fare bisogna usare bastone tipo quel bastone che ha utilizzato lei in budapest è vero rispondi di pagherò almeno quel non irreperibile bova finicamente nella blacklist